il mondiale 2009 è finito purtroppo la moto è una sola perchè l'altra è morta ieri il super pole e quindi il forcellone è morto e quindi siamo tornati sulle oggi in gara siamo tornati sulle nostre posizioni 14, 15 comunque è stato un buon weekend, abbiamo girato bene con un po' giù di morale perchè ha finito tutto poi ora non si sa chi corre il prossimo anno quanto corro con chi il giorno intanto beve oh prossimo appuntamento miami capodanno prossimo appuntamento miami siamo pronti? vabbè dopo quindi niente questo è l'ultimo aggiornamento della pista per quest'anno spero che gli aggiornamenti siano piaciuti poi magari per il prossimo anno se rifaccio il mondiale studio qualcosa di più carino però lo voglio fare un po' più seriamente e precisamente comunque signore e signore il mondiale è finito arrivederci al 2010 speriamo vi darò la news appena posto l'ultimo saluto alla mia mattina mi piace chissà il prossimo anno di che colore sarà ringrazio tutti gli sponsor ovviamente ringrazio il team cazzo forse io non mi ricordavo è andato dai fai il saluto dell'ultimo aggiornamento soldato luca tu mi piaci lo so da domani ti chiamiamo palla di lardo anche a me ciao a tutti finito l'anno è finito tutte le gare finì io sono un po' triste ora ma penso stanotte esatto va bene ciao a tutti ci vediamo nel 2010